Allora io partirei subito dando un'informazione che è un'informazione arcinota ma che è bene ricordare. Vedete mentre noi siamo qui a parlare della figura di Xi Jinping, di Mao e della Cina vale la pena ricordare che la Cina al momento possiede il 2% delle generali, il 2% di Unicredit, il 2% di San Paolo intesa, il 2% del Monte dei Paschi che oltre il 30% del CDP reti che è la nostra holding di Stato che punta all'erogazione delle reti energetiche, del gas nel nostro paese è in mano ai cinesi che la Cina ha comprato la Pirelli, uno dei marchi storici del capitalismo italiano. Quando noi vogliamo rievocare la rivoluzione industriale italiana che si compie alla fine dell'Ottocento sostanzialmente noi ricordiamo due marchi storici, la Fiat che nasce nel 1899 e la Pirelli, sono stati il simbolo del primo capitalismo e della prima rivoluzione industriale italiana. Oggi la Pirelli è interamente controllata dai cinesi, ha un presidente ancora italiano ma ha un amministratore delegato, colui il quale detiene i veri poteri, che è un manager cinese. Questo noi lo dobbiamo tenere ben presenti. E dobbiamo domandarci, se lo deve domandare ciascuno di noi, che posto anche se avessimo le risorse economiche di andare in Cina e comprare diciamo la rete energetica cinese, io domando a voi. Mi sarebbe consentito? Sarebbe consentito al signore qui di andare con bei valigioni di dollari a Pechino, a Shanghai e comprare la rete, il 30% della rete energetica cinese? Punto interrogativo. L'altra considerazione la vorrei fare attorno a un'immagine perché vedete il simbolismo delle immagini a volte vale molto di più di concetti e ragionamenti filosofici che noi possiamo fare. Ogni fine anno i capi di Stato fanno dei discorsi alle nazioni e noi giornalisti vediamo scorrere sui circuiti internazionali le immagini di questi capi di Stato che fanno i loro discorsi. Io guardai con attenzione il discorso di Xi Jinping, non parlo e non conosco il cinese, però quell'immagine come dire mi accese una riflessione. Feci il fermo immagine, mi feci aiutare da persone che parlano il cinese perfettamente e notai che laddove una volta c'era il quadro storico del marxismo-leninismo, cioè il quadro che Mao aveva alle spalle con Marx, Engels e Lenin che erano le figure storiche del comunismo, adesso c'è un gigantesco quadro alle spalle di Xi Jinping con la grande muraglia cinese e laddove una volta c'erano i testi sacri del marxismo-leninismo, adesso ci sono testi di filosofia confuciana. Che cosa significa questo secondo me? Come l'ho interpretato tutto ciò? L'ho interpretato con la volontà di Xi Jinping e del gruppo cinese di oggi di connettere la storia attuale e recente della Cina non tanto alla tradizione del comunismo e del marxismo-leninismo quanto alla storia della grande Cina imperiale. La Cina di oggi vuole rinnovare i fasti, il prestigio, la forza anche militare di quello che era stato il grande impero cinese perché noi dobbiamo avere un grande rispetto per questa civiltà. La Cina è stata una grandissima civiltà, ci sono state epoche storiche in cui i cinesi erano molto più avanti di noi occidentali, nella farmacia, nella chimica, nelle tecniche di ingegneria. Poi dopo noi li abbiamo sopravvanzati nel XIX e del XX secolo però loro sono una civiltà a tutto tondo. Chi è Xi Jinping? Xi Jinping secondo la rivista Forbes è l'uomo più potente al mondo perché concentra nelle sue mani le tre alte cariche della struttura costituzionale cinese. Lui è nel contempo il presidente della Repubblica Popolare Cinese, è il segretario generale del partito, è il presidente della commissione militare, come dire il capo delle forze armate. Pensate che nemmeno Mao ha concentrato sempre, solo per una piccola parte, ha concentrato tutti e tre poteri nelle sue mani, ma c'è stato un lungo periodo in cui Mao era il segretario del partito e Liu Shaoqi, un altro dirigente comunista, era il presidente della Repubblica Popolare Cinese. Deng Xiaoping, altro grande personaggio, è stato spesso presidente della commissione militare ma non ha mai avuto tutti e tre poteri nelle sue mani. Quindi questo ci dà la grande dimensione del potere di questo signore che tra l'altro ha imposto due importanti modifiche, non le chiamerei riforme perché sono un po' una regressione costituzionale, ha inserito il suo pensiero in Costituzione, cioè quello che lui dice quotidianamente è parte della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese e ha abolito il limite dei due mandati che era stato invece introdotto da Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, quando arriva al potere, memore delle degenerazioni violente della rivoluzione culturale e del potere assolutistico, monarchico di Mao Zedong decide di mettere un limite di due mandati, non si potevano fare più di due mandati al vertice del paese. Adesso questo limite è stato abolito e Xi Jinping potrebbe aspirare ad essere a vita capo dello Stato e segretario generale del partito e capo delle forze armate. Teniamo un attimo fermo questo ragionamento, andiamo a cose anche molto più attuali. Vedete la mia biografia è stata scritta ed è stata pensata anteriormente alla vicenda del coronavirus, del covid. Io non immaginavo che potesse accadere un evento di questo tipo, anche se ricordo benissimo la sera del 9 gennaio quando vi discorrere le agenzie sul mio monitor e chiamai Giovanna Botteri che era a Pechino e le chiese di fare un collegamento per spiegarci che cosa era questa epidemia che veniva da questa città di Wuhan in Cina. Però per esempio io nel mio libro accenno soltanto al tema delle manipolazioni genetiche rispetto alle quali i cinesi non hanno i limiti che noi ci siamo imposti nel tema delle clonazioni, io non ho una cultura scientifica, una cultura giuridica, però noi ci siamo imposti occidentali, ci siamo imposti dei limiti, i cinesi non hanno gli stessi limiti che abbiamo noi e io non aderisco affatto alle teorie complottiste, non ci credo all'ipotesi del virus di laboratorio. Io penso che il virus abbia un'origine naturale ma ci sono enormi ritardi da parte della Cina, lo ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità a chiare lettere nel trasmettere alla comunità internazionale i dati e le verità su quanto stava accadendo in quel periodo, questo lo dobbiamo tenere ben presente. Ma se questo virus ha prodotto e sta producendo tanti danni e forse perché, ce lo dobbiamo domandare, la Cina ha assunto nel mondo di oggi un ruolo centrale all'interno del processo della globalizzazione, per certi versi sta diventando il motore della globalizzazione che la mette al centro di ciò. Sui libri di storia io ho letto che anche la peste manzoniana, la peste che ci racconta mirabilmente Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, peste del 600, aveva un'origine cinese ma impiegò due secoli per arrivare in Europa occidentale. Il virus del Covid-19 ha impiegato poche settimane, pochi giorni per arrivare noi e questo è forse il simbolo del fatto che la Cina stia diventando centrale nel nostro tempo. Sta diventando centrale e sarà inevitabilmente un termine di confronto, badate bene, non solo per gli Stati Uniti d'America ma per tutto l'Occidente, sarà un tema di confronto come modello, come essere e come proiezione. La prima parte del Novecento vide un confronto serrato che poi sfociò nella Prima Guerra Mondiale e poi successivamente nella Seconda Guerra Mondiale tra le democrazie liberali occidentali e gli Stati totalitari, quelli di marca nazifascista. La seconda parte del Novecento ha visto un confronto serrato tra l'Occidente liberale e l'Unione Sovietica, il modello comunista sovietico, il secolo che noi stiamo vivendo è il secolo destinato ad essere il secolo del confronto serrato tra la Cina, l'entità geopolitica cinese e l'Occidente liberale. Ma questo lo dice lo stesso Xi Jinping perché Xi Jinping lo ha detto candidamente, lo ha scritto nei suoi testi, ha detto che questo deve essere il secolo cinese come il secolo scorso è stato il secolo americano, il Novecento è stato soprattutto nell'ultima parte il secolo in cui la cultura americana attraverso due strumenti di diffusione formidabili quale il cinema e la musica ha informato tutto l'Occidente. Io sono napoletano, c'era Carasone che cantava Tuo Falla americano, era appunto un simbolismo molto popolare, popolaresco, della diffusione della cultura americana. Oggi la Cina vuole avere lo stesso potere, la stessa forza, cioè creare un soft power che si installi in tutto il mondo e che affermi un dominio cinese. Ma c'è un'altra cosa che Xi Jinping dice, lo dice nel suo volume Governare la Cina, Xi Jinping afferma a chiare lettere, non ha paura di affermarlo, che la democrazia non è un valore, l'armonia è un valore. Vedete questi due concetti che si contrappongono, l'armonia e la democrazia. Che cosa significa? Che da una parte c'è l'Occidente, noi, che bene o male con tanti difetti, con tante criticità, con tanti elementi criticabili, abbiamo maturato una coscienza collettiva di democrazia che significa porre al centro l'individuo, le donne e gli uomini con le loro libertà e con i loro diritti individuali che vanno sempre salvaguardati. Dall'altra parte invece c'è una visione nemmeno solo cinese, tutta asiatica, non solo riferita alla Cina ma la possiamo riferire anche al Giappone, ad altri paesi asiatici, che invece pone al centro non l'individuo, non le donne, non gli uomini, ma pone al centro un fluire armonico della società. Quando un giornalista messicano, l'unico che l'ha intervistato, ha chiesto a Xi Jinping direi ma che cos'è questa armonia? È un muoversi armonico della società in cui ciascuno sta al posto suo e svolge i ruoli che gli vengono prefissati. E chi decide che cosa fa chi? Lo decido io. Ecco questa è l'idea dell'armonia, dove c'è un'entità sovraordinata che ti assegna un compito e tu sei parte di questo grande meccanismo che è lo Stato e devi collaborare a questa progressione armonica che è appunto lo Stato. E noi siamo chiamati, gioco forza, a misurarci con questo mondo. Vedete oggi la Cina è la più grande potenza manifatturiera industriale del pianeta, forse più degli Stati Uniti d'America ed ha un'altra aspirazione importantissima, per certi versi molto preoccupante, aspira a diventare la più grande potenza tecnologica nel pianeta e lo sta facendo in un settore chiave. Vedete la storia dell'umanità è fatta di scoperte scientifico-tecnologiche che segnano un salto, il salto di uno scalino. Quando noi abbiamo scoperto la penicilina abbiamo fatto un salto in avanti, quando abbiamo scoperto gli antibiotici abbiamo fatto un salto in avanti. Quando alla fine degli anni 70 ha incominciato a implementarsi internet che nasce da un progetto militare ARPANET abbiamo fatto un salto in avanti perché poi in pochi anni, quando parlo di pochi anni dico 30-40 anni, la rete è diventata una realtà imprescindibile delle nostre vite. Ecco, quale sarà il prossimo grande salto tecnologico dell'umanità? L'intelligenza artificiale. Quando le macchine sapranno fare delle funzioni di pensiero che oggi sono una peculiarità degli esseri umani, l'applicazione più comune dell'intelligenza artificiale che si realizzerà fra pochissimi anni, non è una cosa che anche io che ho 58 anni la vedrò e forse me ne gioverò, è per esempio l'automobile che non sarà più guidata ma farà tutto automaticamente, già ci sono, già esistono, dobbiamo soltanto immetterle nel mercato, sparcheggerà, dice tu immetti nel programma che vuoi andare da Pordenone a Milano e l'auto ti porta comodamente da Pordenone a Milano. Non è una cosa futuribile perché è una cosa che è una realtà. E la Cina oggi, la Repubblica Popolare Cinese è la nazione più avanti nella ricerca sull'intelligenza artificiale. Ecco la delicatezza del tema 5G perché significa consegnare nelle mani dei cinesi le nostre vite, le nostre informazioni. Avete visto, la notizia è uscita proprio tre giorni fa, pare che la Cina abbia schedato due miliardi e mezzo di individui, siano stati schedati dalla Cina. Che significa schedati? Le vostre abitudini, quello che comprate, i vostri gusti culinari, i percorsi che voi fate ogni mattina per andare a trovare un amico, un parente, cioè incamerare una serie di informazioni che poi un domani potrebbero essere a loro utili. Dice ma che gliene frega Xi Jinping di dove io vado, a quale ristorante io vado? Dice per il momento non ci interessa però noi la mettiamo da parte, poi un domani se la signora lì seduta dovesse diventare Presidente della Repubblica Italiana io glielo auguro di tutto cuore e loro sapranno quali sono le abitudini della signora che lì è seduta e che sta ascoltando la mia conferenza. Quindi questo ci pone un tema molto forte. Detto questo Xi Jinping è una persona di estremo valore, di estremo qualità. Vedete, Xi Jinping nasce come un principe rosso. Che cosa significa principe rosso? Significa che è nato in una famiglia altolocata della nomenclatura del Partito Comunista Cinese. Il padre era stato uno dei militari che avevano accompagnato Mao durante la lunga marcia ed era diventato addirittura vicepremier e capo della propaganda del partito. Lui nasce nella zona esclusiva, nella città ha proibita che la parte esclusiva dove vivevano a Pechino gli alti gerarchi del Partito Comunista cinese che non ha realizzato alcuna eguaglianza ma ha sostituito al potere dei funzionari imperiali il potere dei nuovi funzionari che erano quelli del partito. Il padre cade in disgrazia perché Mao, memore della lezione di Stalin, ogni 7-8 anni faceva fuori tutti quelli che erano nella sua cerchia più vicina per evitare che si potessero generare forze capaci di destituirle quindi ogni tanto li faceva fuori tutti quanti e li sostituiva con altre persone. Questa è una dinamica che Stalin aveva proprio teorizzato. Il padre viene arrestato e viene gettato in un campo di lavoro, la famiglia addirittura pensava che fosse morto e il giovane 17enne Xi Jinping viene anche lui arrestato e mandato in un campo di lavoro e per due anni è addetto esclusivamente a dar da mangiare ai maiali. Non poteva leggere, non poteva studiare, non aveva contatti con il mondo esterno, non poteva muoversi dal campo di lavoro, la sua quotidianità era scandita dalla necessità di occuparsi dei maiali e di dormire in un giaciglio accanto ai maiali. Questa è la vita di Xi Jinping. Però questi tratti che possono essere banali della vita di una persona, io l'ho fatto anche a proposito di Putin, l'ho fatto anche a proposito di Trump o di Hillary Clinton, sono fondamentali per capire poi la psicologia di questi personaggi, una sorta di introspezione caratteriale per capire qual è la loro dinamica ad oggi. Un Putin che è figlio dell'assedio di Leningrado, che ha perso il fratello nei bombardamenti nazissi, dove il padre ha perso una gamba, la mamma ha avuto danni fisici irreparabili, dove lui stesso ha fatto appostamenti notturni come agenti del KGB ed è uscito con una pistola in mano ad affrontare la folla all'Ipsia, capite bene che non ha paura certo di quello che può dire Macron o Giuseppe Conte, cioè il personaggio non si intimorisce facilmente. Xi Jinping che è stato per due anni isolato dal mondo in un campo di lavoro evidentemente è uscito da questo processo con un carattere molto duro e molto forte. Vedete lui appare un personaggio sorridente, conciliante, ma questa è una peculiarità di tutti i cinesi, però al di là di questo sorriso, al di là di questo carattere bonario c'è una personalità strutturata. Muore Mao Tse-tung, la banda dei quattro viene fucilata fra cui la vedova di Mao e il capo dei riformisti Deng Xiaoping torna al potere e con Deng Xiaoping torna al potere anche il padre di Xi Jinping e qui comincia la carriera di questo giovane dirigente del partito che pensate per ben dieci volte aveva chiesto di essere iscritto al partito e che per ben dieci volte gli era stata rifiutata l'iscrizione. La prima moglie di Xi Jinping, lui ha sposato questa cantante lirica molto famosa, Lui Peng, però la prima moglie vive a Londra ed era la figlia di un diplomatico cinese, a un certo punto gli dice ma andiamo a vivere a Londra. La moglie era arrivata a Londra, Xi Jinping era un ingegnere e gli aveva trovato un posto di lavoro a Londra, ma lui non cede, dice io devo restare qua e devo costruire la Cina, quell'idea di Cina che forse già aveva da adolescente. Per dieci volte chiede di essere iscritto al partito e per dieci volte gli dicono di no, finalmente l'undicesima volta glielo concedono. E di qui comincia la sua carriera, comincia facendo il vicesindaco di un piccolo comune. La domenica convoca tutti i cittadini con la vanga e la pala in mano per coprire le buche che erano sulle strade. Questa è un'idea che potremmo dare a qualche nostro amministratore. E comincia piano piano a fare prima il vicesindaco, poi il sindaco, il segretario del partito, sempre di città sempre più grandi, poi diventa capo di una provincia, poi una provincia ancora più grande, si specializza nel creare le cosiddette zone economico speciali, cioè zone dove viene consentita l'impresa, e questa è un'altra cosa molto importante, viene costruita l'impresa privata fino a diventare segretario del partito a Shanghai, che essere segretario del partito a Shanghai è un po' come essere il capo della Lombardia o di Milano, perché Shanghai è di fatto la capitale economica della Cina, una delle piazze finanziarie più importanti al mondo. Lì a un certo punto il partito lo convoca e gli dice siamo in ritardo, in un imperdonabile ritardo per la costruzione delle opere delle Olimpiadi di Shanghai, te ne devi occupare tu, ed è un'arma a doppio taglio, perché se riesci a fare le opere, a fare le Olimpiadi è un successo tuo, ma se non riesci significa la fine della carriera politica. Xi Jinping convoca tutti i responsabili dei cantieri e dice le strade sono due, o voi finite i pilastri in tempo o voi finite nei pilastri voi. E così poi le Olimpiadi si fanno e sono un grande successo e una grande vetrina per la Cina e di qui poi parte la carriera politica che porta Xi Jinping. Ma al di là del dato biografico personale che è importante, ve lo ripeto, per capire la psicologia, l'introspezione, il carattere, la caratura di questo personaggio. Vedete questi cursus sonorum costruiti piano piano, che una volta erano anche la peculiarità della nostra politica, anche in Italia una volta tu arrivavi a fare il ministro se avevi fatto prima il sindaco, l'assessore, il consigliere provinciale, il consigliere regionale, l'assessore regionale e poi dopo un lungo cursus che ovviamente ti dava un bagaglio di conoscenze e di capacità amministrative, potevi arrivare a Roma e facevi il ministro. Invece questa in Cina è ancora una caratteristica ma questo ci avrirebbe un discorso molto importante e molto delicato sui processi di formazione delle classi dirigenti, c'è tutta una saggistica all'inizio del Novecento, Mosca, Pareto, Michels che riflettono sull'elite e sulle classi dirigenti e sui processi di formazione delle classi dirigenti. Ma al di là di questo il dato che noi dobbiamo capire è la Cina centro e modello col quale noi siamo chiamati a misurarci. La Cina è un sistema autoritario, totalitario, vedete nell'ultimo capitolo del mio libro io racconto la storia di cinque, vengono banalmente chiamati librai ma in effetti sono degli intellettuali editori di Hong Kong che sono stati fatti sparire da Xi Jinping, poi sono per fortuna ricomparsi ma sono stati arrestati e per tanto tempo non si sapeva che fine avessero fatto. Io la storia l'ho mutuata da un'inchiesta del New York Times però stranamente nonostante il New York Times abbia dedicato la prima pagina a questa vicenda in Italia se ne sa pochissimo cioè pochi sa, immaginate se Putin avesse fatto sparire cinque giornalisti russi, ne avremmo parlato, l'avremmo denunciato giustamente come è giusto che abbiamo denunciato altre cose però di Xi Jinping si sa poco e noi occidentali ai cinesi facciamo sempre moltissimi sconti. È un sistema autoritario indubbiamente che però pone all'Occidente un termine di confronto sull'efficienza nei processi globali e soprattutto economico globali e spiego quello che voglio dire. Sapete che da Hong Kong a Macao è stato costruito un ponte, un ponte che porta da Hong Kong, ex colonia britannica, a Macao che era l'ex colonia portoghese. È un ponte lunghissimo, la sua costruzione ha richiesto nove anni però è stato finito, è stato portato a terra. A Pechino è stato costruito un nuovissimo aeroporto che è il miglior aeroporto al mondo, il più grande aeroporto al mondo che è stato costruito e realizzato in cinque anni. Ecco tutto questo pone di fronte a noi un termine di confronto. Il termine qual è? L'efficienza dell'Occidente, che grado di efficienza noi abbiamo rispetto a loro. In Italia noi siamo stati bravissimi perché costruimmo l'autostrada del sole da Milano a Napoli in sette anni ma se oggi noi volessimo ricostruire l'autostrada del sole impiegheremmo 70 anni pur avendo molte tecnologie più avanzate perché state sicuri che tutto finirebbe davanti al Tarre e al Consiglio di Stato in mille pastoie burocratiche e probabilmente ci sarebbe l'associazione dei difensori dei moscerini che direbbe che i moscerini si spiaccicano sul parabrezzo dell'auto e quindi l'autostrada non bisogna farla. Questo è la realtà del nostro tempo. Io non voglio entrare nel merito del ponte sullo stretto di Messina se è utile o non utile. Questo io non mi pronuncio su questo tema, non sta a me dire ciò. Però certamente non si costituisce una società stretto ponte di Messina, si pagano i consiglieri di amministrazione, si paga una burocrazia, si paga un apparato per anni e anni per poi non fare nulla. Allora decidi se lo vuoi fare o non lo vuoi fare, se vuoi fare il tunnel, se vuoi fare il ponte, si decide. Si decide e si fa o non si fa. Non è che si sta sospesi nel vuoto anni e anni senza poi decidere niente spendendo del danaro pubblico. Vi ho fatto degli esempi per farvi capire come la Cina poi sia un termine di confronto rispetto a noi in termini di efficienza. Questo che significa? Significa che noi non dobbiamo abbiurare certo ai nostri valori fondanti che sono i diritti umani, i diritti individuali, i diritti politici delle persone, ma dobbiamo porci il tema del confronto della Cina avendo anche una consapevolezza di chi noi abbiamo di fronte. Solo in questi giorni l'Unione Europea finalmente si è posto il tema della reciprocità con la Cina, la reciprocità nei rapporti commerciali ed economici. Che significa la reciprocità? Significa che se io e il signore che sono seduto qui davanti, lei come si chiama di nome? Signor Sergio, io e Sergio, Gennaro e Sergio vogliono aprire una pizzeria a Shanghai, una banale pizzeria a Shanghai. Noi dobbiamo fare una joint venture con un cittadino cinese in cui lui ha il 51% della pizzeria e io e il signor Sergio, Gennaro e Sergio hanno il 49% della pizzeria. Chiaro? Se invece un cittadino cinese vuole comprare un albergo in Italia, ce ne sono tanti a Roma, ci mettono anche la bandiera della Repubblica Popolare Cinese, ma questo non mi scandalizza perché anche gli italoamericani mettono la bandiera italiana fuori alle loro pizzerie, fanno benissimo e fanno bene anche i cinesi. Però se uno vuole aprire un ristorante cinese a Pordenone lo fa liberamente, nessuno gli dice niente o vuole comprare un albergo o vuole comprare un'azienda, lo fa liberamente. A noi non è consentita la stessa cosa e finalmente soltanto in questi giorni i leader europei stanno ponendo il tema della reciprocità nei rapporti con la Cina. Noi siamo l'unico paese, grande paese europeo, che ha sottoscritto il memorandum della Via della Seta. Lo abbiamo firmato quando Xi Jinping è venuto in Italia, pensate è venuto con due aerei in Italia, io mi sono messo davanti all'altare della patria e tra la prima macchina, la seconda macchina e l'ultima macchina del corteo presidenziale sono passati 20 minuti, cioè per 20 minuti io vedevo sfrecciare tutte le limousine del seguito cinese. Si è portato quattro medici personali e due assaggiatori di cibo a proposito di impero e di idea di magnificenza imperiale. Nel libro io ho intervistato padre Bernardo Cervellera che è un grande missionario italiano, il capo del PIME ed è il direttore di Asia News, un'agenzia vaticana religiosa che si occupa delle missioni che la Chiesa Cattolica ha in Asia ed è un grande esperto di Cina, certamente molto più di me, e beh lui dice c'è un'idea di magnificenza, di grandezza nella Cina di oggi. Noi siamo l'unico grande paese che ha firmato il memorandum, la Francia si è guardata bene dal firmarlo, la Germania si è guardata bene dal firmarlo, la Spagna non lo ha firmato, l'ha firmato l'Italia, l'Ungheria, il Portogallo e qualche altro paese che non ricordo. Il confronto con gli Stati Uniti e Trump. Guardate di Trump si possono dire tutte le cose peggiori, ogni sera noi siamo sommersi dall'informazione, ogni giorno da cose contro Trump, si dice tutto il contrario di Trump, cioè personaggio che viene tratteggiato come un personaggio orrido, come un personaggio da gossip che viene diciamo sbeffeggiato e colpito dai giornalisti. Però guardate, una cosa per esempio però va detta con chiarezza, sulla Cina Trump ci ha visto bene, tant'è vero che Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca, sulla Cina accetta tutte le politiche di Trump e ha detto a chiare lettere che se i democratici dovessero vincere l'elezione e Biden diventare presidente degli Stati Uniti d'America, lui farà mille volte di più con Trump rispetto alla Cina e contro la Cina. Io non credo che Trump per sua formazione, Trump è un ex democratico, per 20 anni è stato un elettore democratico e al matrimonio di Trump e Melania gli unici politici presenti erano Hillary Clinton e Bill Clinton, la sorella di Trump che è giudice della Corte d'Appello federale del New Jersey è stata nominata in quel ruolo da Bill Clinton e la famiglia Trump fa i soldi quando finanzia e vezzeggia l'ascesa politica di un avvocato di Brooklyn, l'avvocato Curry che diventa governatore dello Stato di New York con la spinta e con l'aiuto economico del padre di Trump, di Fred Trump. Quindi Trump viene da una tradizione democratica, è un new yorkese e quindi è un uomo della globalizzazione anche lui anche se poi adesso fa l'uomo di destra, fa il repubblicano ma non è questo nel suo DNA, non ha nessun cromosoma culturale di questo tipo. E quindi Trump secondo me non è assolutamente a favore dei dazi però ha individuato nei dazi che noi abbiamo subito criminalizzato ma che badate bene sono uno strumento di politica economica, in Italia i dazi furono adoperati dalla sinistra storica che ha governato la nostra Italia alla fine dell'Ottocento e grazie ai dazi noi potremmo costruire la nostra industria, prima industria siderurgica, le nostre prime ferrovie, sono uno strumento di politica economica che deve essere adottato, è un po' come l'antibiotico, lo devi prendere per far calare la febbre, non ne devi abusare assolutamente, quindi per un periodo relativamente breve i dazi possono anche essere utili. Io non credo che Trump sia ideologicamente a favore dei dazi ma ha trovato nei dazi lo strumento di pressione per costringere la Cina a sedersi al tavolo delle trattative e infatti quando Trump diventa presidente la bilancia commerciale fra la Cina e gli Stati Uniti d'America è enormemente squilibrata. Adesso provo a ricordare i numeri ma potrei anche sbagliarmi, 800 miliardi a favore della Cina e solo 200 miliardi a favore degli Stati Uniti d'America, 800 miliardi di esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, 200 miliardi di esportazioni americane verso la Cina. Alla fine Trump ha firmato l'accordo con Xi Jinping all'inizio del 2020 in cui la Cina si è impegnata ad acquistare 500 miliardi di merci americane ogni anno, cioè li ha costretti a sedersi al tavolo e a trattare. E badate bene anche Macron e la Merkel hanno rivisto molto le loro politiche nei confronti della Cina. Il Parlamento tedesco su impulso di Angela Merkel ha approvato una legge nella quale si sancisce che nel caso in cui la Germania o imprenditori privati tedeschi devono vendere un'azienda ad alta tecnologia tedesca ad un paese extraeuropeo, occorre l'autorizzazione del governo federale tedesco. Se domani i cinesi dovessero fare una maxi offerta per acquistare per esempio la Bayern, grande colosso farmaceutico mondiale, il governo cinese ha l'ultima parola su questo. Invece quando si è venduta la Pirelli, asset tecnologico del nostro paese, della tradizione del nostro paese, nessuno ha detto nulla. Si è detto che è un'azienda privata, il proprietario può fare quello che vuole. No, c'è un interesse strategico che probabilmente deve essere valutato, c'è un interesse della collettività rispetto a queste cose. La Francia lo stesso, Macron, ha detto a chiare lettere, lo ha detto a Xi Jinping in un incontro a quattro occhi, gli ha detto chiaramente non è possibile più andare avanti in questi termini in cui c'è questo forte sbilanciamento economico a vostro favore e a nostro sfavore. Perché il tema qual è? Guardate, è che la Cina è diventata la fabbrica del mondo, oggi non esiste nessun prodotto complesso al mondo, probabilmente anche questo led che io ho davanti, probabilmente anche quella telecamera che ci sta dando cortesemente lo streaming, le sedie dove siamo seduti, non esiste nessun prodotto al mondo che non abbia un componente cinese al suo interno. Ma questo si trasforma in una subalternità economica, non è un libero interscambio, si trasforma in una subalternità economica. Perché? E lo abbiamo visto poi con la pandemia quando abbiamo dovuto fare la corsa ad acquistare le mascherine prodotte in Cina o prodotte in altre parti dell'Asia. Perché noi abbiamo smesso di fare cose? Perché l'Occidente ha smesso di fare cose? Perché è più comodo lavorare nei servizi che fare l'operaio o fare cose. Ma fare cose è importante perché ti dà un'autonomia, ti dà un'indipendenza che si trasforma anche in una libertà e in una sovranità. Non si tratta di nazionalismo, non è un nazionalismo, significa avere la capacità di fare cose e di detenere cose e quindi di detenere anche un'indipendenza che sia correlata a questa capacità di fare cose. Tutto questo lo ha messo a nudo la vicenda della pandemia. Tutti gli stati europei, tutto il mondo occidentale, lo ha detto l'Ocse e ieri lo ha ribadito in un altro suo dossier, l'Italia dovrebbe perdere un PIL del 10.5%, la media europea è del 7%. Quale sarà l'unico paese al mondo che crescerà nel dopo Covid? Quale sarà l'unica nazione in cui il PIL resta positivo, sia pur contenuto rispetto alle cifre fatte in passato? E' la Cina. Cioè la Cina continuerà a crescere, mentre tutto l'Occidente andrà indietro. Ovviamente sia chiara una cosa, qui non è che sono i cinesi cattivi e noi siamo i buoni, e i cinesi cattivi vogliono conquistare noi buoni. C'è un forte tema che è il tema della decadenza occidentale. Nel 1918 un grande scrittore che io amo tantissimo, Oswald Spengler, scrive Il tramonto dell'Occidente e inquadra in questo grande saggio, le ragioni della crisi occidentale, una sorta di nitilismo che ci sta pian piano distruggendo. Io ho un po' aggiornato questa lettura e dico per esempio che il grande male del nostro tempo è il politicamente corretto, quello che io chiamo più PDC, ma non faccio questioni politiche perché a me la politica non interessa, interessa il confronto delle idee. Nel confronto delle idee indubbiamente il politicamente corretto sta mettendo in ginocchio la civiltà occidentale, trasformandosi in una perdita di efficienza, perché tu puoi essere democratico, rispettoso dei diritti individuali, rispettoso della democrazia, rispettoso delle libertà di tutti quanti, ma essere contemporaneamente anche un soggetto efficiente nelle cose che devono essere fatte e nelle risposte che bisogna dare alla modernità. La modernità, la globalizzazione ci impongono e impongono alle società contemporanee grandi risposte, ma impongono soprattutto risposte rapide perché i tempi della democrazia sono tempi che si sono accelerati, le decisioni che prima tu maturavi in anni e anni di discussione adesso devono essere maturate e devono essere assunte più rapidamente. Molto spesso noi abbiamo convuso un assemblearismo permanente con la democrazia. La democrazia significa che se noi dobbiamo ridipingere questo telone, votiamo, c'è chi propone il colore giallo, chi propone il colore nero, chi il verde, chi l'arancione, chi un altro colore. Dopodiché la maggioranza vince ma si ridipinge il tendone, non è che stiamo poi ogni volta a ridiscutere di quale progetto noi dobbiamo attivare rispetto a ciò. Quindi andando verso una conclusione perché poi non vi voglio tediale. Attraverso la vita, il vissuto di questo uomo, Xi Jinping, che ripeto anche se io non gli faccio sconti e metto in luce circostanze o fatti in cui lo critico aspramente. C'è un'agenzia ANSA che io ho ripreso dove lui dice polverizzeremo le ossa dei nostri nemici. Cioè immaginatevi se un altro capo di Stato si permette di dire polverizzeremo le ossa dei nostri nemici. Verrebbe, diciamo, domani sarebbe un titolo di tutti i giornali. Se lo dice Putin o lo dice Trump domani finisce in prima pagina e giustamente finisce in prima pagina di un quotidiano. Lo dice Xi Jinping e la cosa quasi passa inosservata ma è ben documentata all'interno del nostro libro. Adesso non ricordo la frase esatta ma la potete ritrovare. Ho cercato di, come dire, di porre il tema Cina che, guardate, sarà il paradigma, lo vogliamo o non lo vogliamo, sarà il paradigma del nostro tempo. Cioè la Cina sarà l'elemento centrale del nostro tempo. Potrei parlare ancora ore e per esempio raccontarvi quello che la Cina sta facendo in Africa. Un vero e proprio progetto di colonizzazione. Ci sono documenti del partito, del comitato centrale del partito comunista cinese dove loro preconizzano di trasportare milioni e milioni di cinesi a vivere in Africa. Loro vogliono fare nei confronti dell'Africa quello che i britannici fecero con l'Australia e la Nuova Zelanda. L'Australia e la Nuova Zelanda non erano paesi anglosassoni. Erano paesi che appartenevano alle popolazioni autoctone che erano gli aborigeni. Poi gli inglesi sono arrivati alla fine del Settecento e nell'arco di un secolo hanno estromesso le popolazioni originarie che sono diventate proprio risicatissime. Gli aborigeni ci sono ma sono pochissimi e hanno piantato un ceppo anglosassone. La stessa cosa progettono di fare i cinesi in parte dell'Africa e ci stanno riuscendo anche perché l'Africa è uno scrigno di tesori minerari, di materie prime che sono fondamentali per l'economia cinese. La Cina che aveva sempre avuto un basso profilo militare ha aperto la sua prima base militare all'estero che si trova a Djibouti nell'area di quella che è stata una colonia francese. C'è una base aereo navale cinese all'estero che quindi si proietta su tutto l'oceano indiano. La Cina sta investendo tantissimo in un grande riarmo. Si vuole appropriare del mar meridionale e per questo è entrato in conflitto con il Giappone, è entrato in conflitto non militare, conflitto diplomatico con il Giappone, con la Corea, minaccia costantemente Taiwan che ritiene proprio territorio e poi c'è la questione centrale che voi conoscete e che seguite spesso, la questione di Hong Kong dove era stato firmato un trattato con la Gran Bretagna quando Hong Kong fu restituita alla Cina, era stato firmato un trattato in base al quale fino al 2044 Hong Kong doveva godere di uno status speciale, di uno status che salvaguardava soprattutto libertà giuridiche e libertà individuali. E poi dopo questo trattato adesso i cinesi lo hanno sospeso e di fatto vogliono assimilare Hong Kong a qualsiasi altra nazione della Repubblica Popolare Cinese. Questo che significa? Che noi dobbiamo fare la guerra alla Cina? Assolutamente no. Noi non possiamo per esempio anche come nazione italiana non possiamo non avere rapporti anche proficui e stretti con una nazione di un miliardo e 300 milioni di individui. È un mercato per la nostra manifattura, noi siamo ancora per fortuna un paese manifatturiero e industriale enorme, gigantesco. Il più alto numero di Ferrari vengono vendute in Cina e quindi noi dobbiamo guardare con grande attenzione a questo mercato, fare quello che ha fatto la Germania, quello che ha fatto la Francia, voi andate a Shanghai, io ci sono stato e le uniche vetture che circolano sono Mercedes, BMW, Volkswagen e Audi. Non trovate altre vetture automobilistiche. Quindi noi dobbiamo aspirare a questo grande mercato e dobbiamo avere rapporti con la Cina anche stretti. Ma lo dobbiamo fare con la schiena dritta, con la consapevolezza dell'interlocutore che abbiamo di fronte, dobbiamo svelare se loro hanno doppi fini nei loro rapporti e dobbiamo essere anche duri e saper dire no quando questo è necessario. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.